Amici della Seratim, buon pomeriggio da Raffaele Pappadà. Al Ferraris, Sam Frosinone si candida all'Oscar nella categoria Horror. Attore protagonista è la paura della retrocessione. La Sam non può più sbagliare. Montella Piazza, Alvarezze Correa, alle spalle di Quagliarella. Stellone col tridente Tonev, Ciofani Dionisi. Dirige la gara il signor Orsato della sezione di Schio. Stato a Pia, Sam Frosinone. Lo recupera però Fernando, senza farlo, potrebbe calciare. Lo fa Fernando! Va a scuotere la traversa. Il primo brivido del match. Al minuto 4, con il destro di Fernando. Ha recuperato un gran pallone. Ha fatto partire un proiettile. Il suo mancino tagliato. Il colpo di testa! Il salvataggio sulla linea! Ad impedire l'1-0 di Quagliarella. Gori ha salvato un gol già fatto. Ancora Correa. Prova il destro! Le ali in calcio d'angolo. Rosi, Soriano. Poi arriva Gori. Tiro controllato. Vista da Viviano. Il suo sinistro non arriva. La deviazione! Poi Viviano! Non c'è arrivato Ciofani, ma il pallone stava per terminare in porta. Il guizzo di Emiliano Viviano. C'è il caspazio per liberare il suo destro. Poi Fernando può calciare lui. Ma invece da Ade Silvestri. Il cross basso per Fernando! La sblocca la staffa! Con il tap-in di Fernando! Avvia l'azione! E la va a chiudere! Nel cuore dell'area! Cade! La resistenza del Frosinone! Con il secondo gol in campionato di Fernando. Il terzo! Se contiamo anche quello alla Roma! Fischia Orsato! Sta ripiegando il Frosinone. Servito Quagliarella. Limite dell'area. La sposta sul destro. Calcia Quagliarella! Le ali! Arriva poi Alvarez! Prima di lui Frara! Attenzione alla Frosinone. Ciofani! Tiro ribattuto. San Marco. Ma dall'altra parte dove c'è Tonev. Il controllo. Il cross di Tonev! Non è chi attraversa tutta l'area della Samp. Esiste la Samp. Fernando. Il cross ribattuto. E il tentativo di Soriano. Si perde sul fondo. Cassani. Può spingere il cross. Teso in area. Deviazione Quagliarella! Fabio Quagliarella! Via la maglia! Raddoppia la Samp! Secondo gol consecutivo! Con la maglia blu cerchiata. Mostra i muscoli. Fabio Quagliarella! Attacca ora Tonev. Cerca il destro. Viviano! Allora è ancora buono. Ciofani! Mira alta per Daniel Ciofani. Con le mani lo svizzero. Kragel. Forzato. Fischia tre volte. Torna sul volto della Samp il sorriso. 2-0 al Frosinone.